partecipa alla grande raccolta punti con l'usato dal 16 gennaio al 31 luglio ogni mille punti ricevi un buono acquisto del valore di 10 euro spendibile nel più grande catalogo al mondo guadagni un punto per ogni euro di acquisti e un punto ogni 2 euro di articoli portati in vendita richiedi gratuitamente la mercatino card e raccogli punti ogni volta che acquisti e porti il tuo usato per informazioni mercatino usato puntocom